Domenica sera in via di Torania i volontari del Corpo Gav hanno allestito degli stand per la raccolta alimentare in favore degli animali e per lanciare l'importante messaggio di sensibilizzazione contro l'abbandono dei nostri amici a quattro zampe. Noi siamo i volontari del Corpo Gav, siamo qui per la raccolta alimentare degli animali e volevo anche ricordare una cosa, visto che siamo in estate, purtroppo sappiamo cosa succede spesso in estate, che gli animali sono la nostra compagnia in inverno, in estate, in primavera, per una vita intera, quindi loro ci sono sempre per noi. Cerchiamo, se dobbiamo prendere un animale, di essere anche noi così costanti fino alla fine per loro. Per dare una risposta a quei selvaggi che abbandonano gli animali, questa è una cosa che comunque non va bene. Io lo reputo un reato, personalmente, e dovrebbero applicare le norme e mancarle in galletta. A sostenere l'iniziativa, con la sua presenza, anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Potete contrattarci tramite Facebook appunto sulla nostra pagina del Corpo Gav. Grazie a tutti.